Chi sei? Mi chiamo Gabriele Piovano, ho 29 anni, sono vicepresidente della consulta per le persone in difficoltà di Torino e attualmente lavoro in ospedale infantile Regina Margherita. Chi sei? Sono Stefania Grandinetti, titolare dell'agriturismo Le Piagge a Ponzono in provincia di Alessandria e presidente regionale Terra Nostra Piemonte. Gabriele, che cos'è il cibo civile per te? Il cibo civile è un cibo a chilometro zero, è un cibo coltivato con determinati valori etici. Che cos'è il cibo civile? È la scelta di considerare e rispettare la provenienza del cibo, un'alternativa alla globalizzazione alimentare. Ed è un cibo coltivato da persone disagiate, persone disabili, rifugiati politici, persone comunque in difficoltà. Qual è il valore aggiunto del cibo civile? Il valore aggiunto del cibo civile è l'accessibilità. Accessibilità per il consumatore a un cibo di qualità prodotto da agricoltori che rispettano l'ecosistema, l'ambiente, gli animali e l'essere umano. Chi produce cibo civile è di solito un agricoltore attento al proprio territorio. In più dà accessibilità lavorative a persone svantaggiate. Chi acquista cibo civile è sicuro che contribuisce a migliorare la società. Generando così un circolo virtuoso.